Complimenti perché sei entrato e sei stato subito determinante per la squadra e io credo anche per il tuo campionato perché avevi bisogno di un'inizione di fiducia. Sì, no, certo, l'attaccante comunque il gol conta tanto, vive per il gol e sono contento di averlo fatto e soprattutto sono contento che è servito alla squadra per vincere. Al termine della giocata più bella della partita, con il velo stupendo di Desovus per Crescenzi che ti ha messo una palla molto invitante. Sì, no, sono azioni che proviamo sempre in allenamento e poi quando escono è importante sfruttarle e siamo contenti che sia uscita. Il tuo secondo gol in maglia bianca azzurra, il primo sotto la tua curva, che effetto ti ha fatto? No, lo cercavo tanto il gol in casa, finalmente è arrivato e spero di farne molti altri. L'ultima ti chiedo, prima di salutarti Edoardo, perché ci hai fatto un po' preoccupare con il colpo alla schiena che hai ricevuto, sei rimasto un po' a terra, visto che venivi dalla post-foggia, da un problema alla schiena, è tutto a posto? Sì, no, esatto, non ho risentito perché comunque ho ancora un po' di dolore, però era momentaneo il dolore e ora fa tutto bene. Ti va stretta la maglia, o meglio, ti va stretta a partire dalla panchina? No, sono scelte che fa il mister, io mi faccio sempre trovare pronto e spero di avere sempre più spazio.